Sempre rimarciati a inserire la sua zia, se non ci voglio, che è proprio questa foto, un modello che sa più altrimenti sempre lo raccontiamo e l'ha iniziato a riprodurre. Quindi si presume che nella zona nostra questa qua è la forma sull'attività, insomma, della zona di Marcelli. Però purtroppo adesso la professione è finita.